Ciao ragazze, benvenuti nei miei preferiti di maggio, do un carissimo saluto a Serena che fa questa collaborazione con me ormai da qualche mese, vi suggerisco davvero di andare a visitare il suo canale perché fa delle review e dei video comunque sempre utilissimi, sinceri, è molto brava, quindi vi metto qui il suo link del suo video. Partiamo subito con i preferiti, allora il primo preferito di questo mese è il Sugar Bomb di Benefit, come avrete potuto vedere da tanti altri miei video, lo uso praticamente in quasi tutti i tutorial che faccio perché ha una stesura meravigliosa, ve lo faccio vedere bene da vicino, allora si apre, qui c'è il suo specchietto, poi c'è il suo pennellino fatto in questo modo, bello ciccione schiacciato, le setole sono morbidissime, poi io tengo sempre la plastichina di protezione così almeno riesco a mettere bene il pennellino a suo posto. All'interno ci sono quattro colori, c'è un pesca, poi c'è questo rosa intenso che dà sul corallo, un rosa chiaro e un prugna chiaro. Basta strofinare il pennello su tutti e quattro i colori e il risultato finale è qualcosa di meraviglioso, ve lo faccio vedere subito come prova, ora io di solito per quanto riguarda la mia carnagione che non è chiarissima, di solito io metto, c'è una mosca, oddio una zanzara, ok, io di solito metto il mio blush, quello corallo intenso sulle guance qui, in questa parte qui e poi questo lo uso spesso per fare l'effetto illuminato qui sopra gli zigomi, perché se uso solo questo non mi colora troppo per la carnagione che ho io, non mi dà troppa pigmentazione sulla guancia, però per me è perfetto, di solito lo uso in quest'area qui, non nego che spesso lo uso anche come ombretto, perché i colori, a parte il fatto che è molto setoso alla stesura, il colore è meraviglioso, quindi spesso lo uso anche come illuminante o direttamente come ombretto, costa, costicchia, ecco, costicchia un po', costa sui 32,50 euro, negli Stati Uniti invece costa sui 28 dollari, è un prodotto molto valido che uso già da svariati mesi, però ultimamente con l'arrivo della bella stagione, dell'estate comunque mi dà ancora di più un effetto di illuminata diciamo, che non sono coloro che fanno parte della sette degli illuminati, quella è un'altra cosa, ok, passo ad altro, il secondo preferito di questo mese, se avete visto la foto che ho pubblicato su Instagram, ho pubblicato un outfit di una cena che ho fatto con mio marito e avevo su questo rossetto che è della Beauty UK, che è questa nuova marca inglese, il rossetto è il numero 10 Passion, avevo fatto già una review su questo rossetto dopo che ero stata il Cosmoprof e il colore è sensazionale, come potete vedere, vi faccio un piccolo swatch, giuro che stavolta non prendo l'orologio, eh, ok, guardate, solo con una semplice passata, è molto pigmentato e cremosissimo e io adoro i rossetti cremosi perché mi danno proprio quell'effetto di labbra piene, carnose, succose, mi piacciono molto i rossetti che sono una via di mezzo tra rossetto e gloss. Passiamo al prossimo, il prossimo preferito è il mio Eye Studio Lasting Drama Gel Liner di Maybelline, io l'ho preso nella tonalità numero 02 Brown ed è questo colore qui, marrone, che ho usato sia nel make-up Uovo Kinder, che se non l'avete visto andatevelo a vedere perché è qualcosa di spettacolare e poi l'ho usato anche nell'ultimo tutorial, tutorial, tutorial prima di questo che è trucco sposa per Biond'Emore. Allora mi piace molto questo prodotto perché è molto facile alla stesura, in più viene venduto insieme al suo pennellino che è davvero valido, adesso il pennellino ce l'ho nei meandri del nulla. Allora non è il classico pennellino per eyeliner che ha la classica punta, quella proprio a penna, ma ha la punta leggermente schiacciata e sinceramente mi trovo bene nella stesura, anche meglio del classico pennellino per eyeliner. Quindi ve lo consiglio, rapporto qualità-prezzo ottimo. Ultimamente Maybelline mi sta davvero sorprendendo, mi piace sempre di più e tanti tanti prodotti li ritengo davvero validi, soprattutto per il discorso qualità-prezzo. Ok, andiamo velocemente al prossimo preferito che è il Lash and Brow Gel Mascara. Anche qui, questo è un mascara in gel trasparente, sinceramente la consistenza è un pochino troppo acqua-cosa per i miei gusti, molto effetto wet, molto, tanto che quando vado a metterlo sulle ciglia, se vado poi a vedere da vicino allo specchio mi lascia delle micro goccioline sulle ciglia, ma qui comunque sta a voi un attimino giocare sul dosaggio e può essere usato benissimo sia per tenere a posto le sopracciglia che come mascara trasparente. Ecco, il mascara trasparente, quando lo metti, se non lo metti come si deve, sembra che non hai nulla. Ecco, io suggerisco a tutte, prima di mettere il mascara trasparente, di piegare le ciglia per bene, così che hanno già quell'effetto incurvato e poi dare un effetto un pochino bagnato con il Lash and Brow di Essence Gel Mascara. Ecco, è una bischeratina, è niente di che, però sinceramente il rapporto qualità-prezzo secondo me vale la pena e quindi l'ho inserito nei preferiti di questo mese anche perché in questi giorni fa un caldo boia, proprio un caldo affoso, anche se comunque non ha fatto bel tempo tutti i giorni e quindi ho pensato spesso a lui e l'ho usato qualche volta. Come non menzionare tra i miei preferiti, prima o poi l'avrei fatto il The Real della Benefit Mascara, che è davvero un mascara favoloso, costa intorno ai 23 euro, ma li vale tutti secondo me perché ha un applicatore meraviglioso come potete vedere qui, con i suoi dentini, fatto in questo modo e mi curva molto bene le ciglia, facendo questo movimento a zig zag riesco ad avere delle ciglia incurvate e definite senza dover usare il piegaciglia. Mi trovo molto bene perché non fa nemmeno grumi, non è troppo bagnato, non è troppo asciutto, quindi per ora rimane insieme al Bad Gal di Benefit, il mio mascara preferito. Però ho sentito in giro che c'è un mascara di questo tipo, della Kiko, me l'ha detto, l'ho sentito sempre da Serena e lei ha quello della Kiko fatto sempre con questo tipologia di scovolino. Nulla, probabilmente esiste una versione economica di un mascara di questa tipologia, volevo solo comunicarvelo. Ok, il prossimo prodotto preferito di maggio è il Max Factor Smoky Eye Effect Eyeshadow. Allora, premessa, tante persone ne parlano male perché questo è un eyeshadow, questo è un ombretto in stick che ha doppia punta, ha la punta diciamo a scalpello per quanto riguarda il colore nero, io ho scelto questa tonalità. E poi c'è la punta arrotondata per quanto riguarda questo bianco. Allora, si chiama Smoky Eye Effect, vi faccio vedere gli swatch. Eccoli qua, non so se li vedete. Sono piuttosto pigmentati, quindi nel momento in cui tu vai a fare lo swatch, dici, caspita, fantastico. Però il problema, d'altronde, è che comunque essendo così cremosi, ci si rende subito conto che potrebbe fare il discorso del problema del prodotto in eccesso nelle pieghette, cosa che fa. Quindi, perché l'ho inserito nei preferiti? Perché per questioni di praticità io uso molto il colore bianco, la parte bianca, come illuminante sotto la crata sopraccigliare e poi anche nell'angolo interno dell'occhio. Veramente è molto molto comodo, così almeno non devo star lì a prendere l'ombretto in polvere, prendere il pennello, far così, insomma, per una questione di praticità mi trovo molto bene con il bianco. Per quanto riguarda il nero, il nero all'interno ha dei mini glitterini, cosa che non mi fa proprio impazzire. Però comunque potete benissimo metterlo nella waterline e fare un discorso di delineare un attimino la linea delle ciglia superiori e inferiori, però io non mi sposterei verso la piega, sempre per il discorso delle pieghette. Comunque è un mio preferito, quindi è un mio gusto personale, però se comunque dovete spendere 13 euro pensando comunque a un prodotto che vi fa uno smokey eye perfetto, sono 13 euro buttati, ecco. Se poi invece volete spenderli per usarli, per usarlo a modo mio, ben venga. Adesso arriva la chicca. Allora, dadan! Che cos'è questo? Probabilmente l'avrete già visto se siete amanti di sephora.com. Qualche tempo fa, specialmente nel periodo di Natale, uscì negli Stati Uniti questa palette limited edition di Kat Von D. Si chiama Tattoo Chronicle Scandelabra Edition ed è la famosa, una delle tante famose palette della famosissima Kat Von D che fa dei programmi tv sui suoi, sul suo negozio di tatuaggi. Lei è una bravissima disegnatrice, è una bravissima tatuatrice. Io personalmente non amo i tatuaggi perché mi piace comunque la donna semplice, ecco, non troppo elaborata, non troppo... però io capisco comunque i gusti di tutti. Ogni tanto quando parlo sembro sarda, ogni tanto mi viene un po' la cadenza così, vabbè. Ok, stavo dicendo. Questa palette me la portò mia suocera quando andò negli Stati Uniti per Capodanno. Mi ha fatto veramente un regalo, davvero l'ho apprezzato tantissimo anche perché è davvero bellissima, ve la faccio vedere subito. Ha questa cover tutta fatta in velluto. Ecco, purtroppo, vabbè, il velluto accumula un po' la polvere, ma chissene! Poi si apre proprio, come vedete, sembra un libro. Si apre proprio al libro, dentro c'è il fantastico disegno fatto da lei, ovviamente, poi c'è qua una dedica sempre scritta da lei, cose romantiche, diciamo, parla insomma dell'amore, qui dice love is the answer. Poi qui c'è un fantastico disegno di una ragazza, vorrei diventare così brava a disegnare, spero, dai, magari un giorno. E poi vai avanti, qui c'è ancora qualcosa scritto da lei, un altro suo schizzo, perché d'altronde fa vedere la sua personalità, e poi qui, da questa parte, giri l'ultima pagina, se ci riesco, e c'è la palette, che è favolosa. È davvero favolosa. Non so se li vedete qui, tutti gli ombretti, che sono in tutto 16, ma secondo me sono state scelte delle tonalità bellissime, anche per l'estate, non solo per l'inverno. E qui ci si può davvero sbizzarrire all'infinito. Ci sono dei colori glitterati, altri satinati, di opaco, qui dei glitter sono caduti, di opaco c'è solo questo verdone, verde oliva, qua in basso. Allora, il mio preferito, ovviamente ogni ombretto ha un nome, che adesso non ho visto elencare, se no vi asciugo. Il mio preferito comunque è WTF, che vuol dire una parolaccia, ma non la voglio dire, che è questo colore che tende un pochino al rosso. E poi mi piace moltissimo il nerd. Io un po' sono nerd dentro, quindi eccolo qua. Vi faccio vedere, ma poi anche questo blu nevi è davvero bellissimo, che si chiama Speed Blue. Fantastico ragazzi, veramente. Poi anche Galeano, questo mi ricorda molto un colore degli ombretti della Naked e degli Urban Decay. Ecco, quello che non mi fa proprio impazzire è questo rosina spento cipria, che si chiama Camila, che sinceramente non mi dice niente e non so nemmeno se c'entra tanto con la palette, con gli altri colori della palette. Comunque è davvero bellissimo. Qui, come potete vedere, c'è un mascara. Anche questo è davvero bello, anche solo il packaging, che ha il nome di lei. Qui c'è scritto Kat Von D. L'ho provato un paio di volte, niente di speciale. Ecco, è il classico mascara, funziona bene, fa il suo lavoro, però non è niente. Ecco, lo scovolino è bello grande, tipo il Bad Gal di Benefit. Funziona bene, non mi lamento, insomma, niente da dire di particolare. So che questa palette era limited edition, però fatemi sapere magari se voi siete riuscite comunque a rintracciarla anche da altre parti e anche recentemente. Magari fatemelo sapere con un commento. Volevo condividerla con voi perché è davvero bellissima. Personalmente non mi piace molto Kat Von D, nei modi di fare che ha. È molto volgare, dice un sacco di parolacce. Davvero, sembra poverina un po' depressa, non lo so a che gli è successo. Però effettivamente quando comunque un prodotto è di qualità, devo dirlo, ecco, a prescindere da chi l'ha fatto. Quindi secondo me questa palette è una vera e propria opera d'arte. In più i colori si stendono benissimo, sono setosi, molto molto pigmentati. Vi faccio vedere gli swatch dei miei due preferiti che sono il Nerd e il VDF. Cioè, guardate, mi è venuto via proprio. Guardate come sono pigmentati, sono favolosi, veramente. Ecco, quindi qui basta veramente pochissimo prodotto e voi avete già una stesura fantastica. Per essere veloce e non annoiarvi troppo, voglio farvi vedere l'applicazione che mi è piaciuta di più dell'iPhone che si chiama Peak Frame. Sono sicura che piacerà tantissimo anche a voi e è esattamente questa qua, Peak Frame. E in pratica sono tutte le cornici delle varie foto che si possono fare. Scusate il mio italiano che sembro veramente... Quando ad esempio io posto una foto su Instagram, io uso questa applicazione tanto bellina e mi posso giostrare molto bene con la cornice della foto che voglio mettere per adornare la mia foto. Poi posso cambiare anche il colore della cornice stessa. Se avete visto qualche mia foto su Instagram avrete visto che tante volte cambio i colori oppure metto dentro le stelline, queste cose qua, queste vischeratine che ci allietano la giornata. Ecco, diciamo, non è gratis a pagamento. Mi sembra che costi sui 79 centesimi e mi trovo davvero benissimo. Poi da qui direttamente la pubblichi su Instagram senza dover stare a salvare, puoi andare su Instagram, puoi prendere la foto dall'album. Qui è davvero molto comoda e ve la consiglio. Mi sono spostata leggermente sulla sinistra, non so se lo vedete. Eccomi, sono di nuovo qua. Ok, per quanto riguarda gli orecchini questo mese. Mi avrete visto in qualche video fa con questi. Non potevo non menzionarli perché sono davvero bellissimi. Li ho presi in una profumeria al mare e sono queste profumerie che hanno prodotti di alta qualità, comunque alta profumeria, che hanno comunque bigiotteria. Sono davvero bellissimi. Siccome me li ha regalati mio marito, che ha sempre un pensiero per me, grazie, grazie Patri, mi ha detto che la signorina gli ha detto, che poi stanno bene anche con questo maglione, va che bello. Bellissimi. Va che belli. Ok. La signorina mi ha detto che questi due anellini qua si possono staccare e volendo, se vi sembrano troppo grossi, troppo ingombranti, si può togliere questa parte qua inferiore e lasciare, ovviamente si stacca, e lasciare solo questo orecchino fatto in questo modo, che secondo me è carino anche così. E volendo ne potete anche mettere solamente uno. Fa la sua bella figura anche soltanto uno. Direi che, penso che per questo video sia abbastanza. Vi ho fatto vedere quali sono i miei preferiti. Eccoli qua, di questo mese, più la palette di Kat Von D, però ho solo due mani. Mi raccomando, ricordatevi di dare un occhio al mio blog, dove in pratica metto tutti gli approfondimenti dei miei video. Di solito quando faccio dei tutorial, che faccio un look, le foto di approfondimento le metto nel blog. Quindi se volete vedere qualche dettaglio in più, mia figlia, se volete vedere qualche dettaglio in più, potete andare a vedere le foto un po' più da vicino nel blog. Poi, se vi va di iscrivervi alla mia pagina Facebook, ne sarei contentissima, così si può anche parlare un po' tra donne, tra di noi. E anche volendo io darvi qualche consiglio e voi darne a me. Insomma, già le ragazze che sono già iscritte sono favolose. Mi commentate sempre, anzi vi ringrazio. Bellissime, bravissime. Anzi, grazie perché a volte mi date dei consigli oppure mi dite delle cose che non so. Grazie davvero. E niente, penso che non ci sia nient'altro da aggiungere. Se vi va, ricordatevi che ho un giveaway in corso che terminerà la domenica 3 giugno alle 9, quindi gli ultimi giorni per partecipare a questo bellissimo giveaway. E io vi mando un bacio e vi dico che ci vediamo al prossimo video. Ciao!